Barbie fa il botto. Il tanto atteso film diretto da Querekoweg ha incantato gli spettatori di tutto il mondo, colorando il botteghino mondiale di rosa e stabilendo nuovi record di incassi sia in Italia che negli Stati Uniti. Con il suo debutto trionfale, Barbie ha conquistato il cuore del pubblico, proiettandosi verso una cifra miliardaria di incassi globali. Protagonisti indiscussi dell'opera sono gli amati attori Morgo Robby e Wayne Gosling, nei panni delle bambole più famose al mondo, Barbie e Ken. Il film è approdato nelle sale cinematografiche italiane il 20 luglio, suscitando immediatamente un'enorme adesione da parte del pubblico. In soli tre giorni di proiezione, ha registrato cifre da capogiro in Italia. Nel suo primo giorno ha incassato oltre 2 milioni di euro, segnando il record per la migliore apertura al botteghino nel 2023. E non ha rallentato, continuando a dominare le classifiche di incassi, con quasi 6 milioni di euro accumulati in appena tre giorni. Ma il successo di Barbie non si è fermato alle frontiere italiane. Il film ha incantato gli spettatori in tutto il mondo, dimostrando di essere molto più di una semplice commedia per bambini. La trama intelligente e divertente è stata elogiata per la sua capacità di affrontare temi importanti, come la parità di genere, in modo profondo e coinvolgente. È un'opera che ha sorpreso il pubblico per la sua audace narrazione, offrendo un'originale visione di un mondo immaginario ribaltato rispetto alla realtà. Nel mondo di Barbie, le donne sono protagoniste assolute, mentre gli uomini vivono in funzione di esse, un'ipotesi paradossale che suscita sorpresa e riflessione. Il film gioca sapientemente con le dinamiche di genere, mostrando una rottura della parete tra il mondo di Barbie e quello reale. Invita a una riflessione critica sulle convenzioni sociali, portando a una comprensione reciproca tra i personaggi e mostrando l'importanza dell'equità. Barbie si rivela essere un inno alla libertà di essere se stessi, indipendentemente dalle etichette di genere imposte dalla società. La sua forza narrativa va oltre il femminismo radicale, sottolineando l'importanza di abbracciare la propria identità e vivere secondo i propri desideri e valori. In conclusione, Barbie si è rivelata una sorprendente e coinvolgente esperienza cinematografica, che ha entusiasmato il pubblico di tutte le età, regalando una parabola ricca di significato, insegnando l'importanza di essere autentici, senza rinunciare alla propria individualità. Un film che, senza dubbio, ha lasciato il segno nell'immaginario collettivo, dimostrando che il mondo di Barbie non è solo un luogo fantastico, ma una metafora potente e attuale sulla nostra società. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.